Il punto a Salerno è un buon punto, dato che abbiamo avuto delle occasioni da rete. Non è facile giocare con una squadra che si chiudeva bene e ripartiva tanto. Allo stesso tempo siamo un po' amaraggiati per questo pareggio, però dobbiamo ripartire da questo e andare avanti, soprattutto per venerdì che c'è un'altra battaglia. Per quanto riguarda la palermitanità siamo in tanti e siamo molto contenti di essere tanti palermitani. Ora è rientrato un altro ragazzo, Mazzotta, che dopo che ha girato tanto è rientrato qui a Palermo. Siamo molto contenti perché è un ragazzo veramente straordinario. Devo essere sincero, dobbiamo continuare quello che abbiamo fatto anche l'anno scorso, perché abbiamo fatto un buon campionato. Sicuramente alla fine siamo cadati un po', abbiamo fatto qualche sconfitta e forse quello non dobbiamo fare. Però noi come Palermo dobbiamo scendere in campo sempre per vincere e per ottenere i tre punti. In questa squadra non c'è un problema di mal di gol, non esiste. Di sicuro c'è un po' di rammarico, però dobbiamo essere concentrati a questo campionato, perché se si pensa sempre al passato fa i brutte figure al presente. Quindi dobbiamo essere concentrati per questa partita, soprattutto venerdì, perché sarà una battaglia. Quindi non possiamo pensare più al passato, dobbiamo pensare al presente. Comunque siamo una squadra, non è una questione di palermitani o non palermitani. Di pubblico spero in tanti, perché comunque il pubblico ci dà una mano e ci dà entusiasmo. Però allo stesso tempo dobbiamo essere noi a portare allo stadio la gente con le prestazioni e con le vittorie. Comunque non penso che siamo pochi, perché comunque Iaio è stato squalificato e rientra. C'è Ciocepe che è infortunato ma rientrerà, c'è Santoro, c'è Asse, Muraschi, io. Comunque siamo in tanti, possiamo optare per due moduli. Nel senso che possiamo giocare sia a due che a tre e mezza al campo. Comunque non penso. La concorrenza comunque fa sempre bene. Io mi alleno sempre al massimo per mettere in difficoltà comunque il mister e conquistarmi una maglia. Per quanto riguarda giocare sia a due che a tre e mezza al campo, il primo anno a Cosenza ho giocato a due e il secondo anno a Lecce ho giocato a tre. Quindi comunque sono abituato a giocare sia a due che a tre e mezza al campo. Veramente sono concentrato a migliorarmi giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento. Non penso che poi sarà il campo a dire la sua. Sì, mi andrebbe di farlo. Veramente mi sento di farlo. Comunque ci sono anche giocatori molto importanti in questa squadra. Io devo solo allenarmi ed essere concentrato sul campo e dare il massimo per il bene del Palermo. Quindi devo essere concentrato solo sulla partita. La figura di leader è comunque un leader in una squadra. Se c'è una squadra che è compatta, il leader è la squadra. Quindi non è importante avere un leader. Poi io non mi sento un leader, non mi sento una persona per ora importante per questa squadra. Cioè nel senso sono un giovane che comunque deve crescere, deve migliorarsi. E lo devo fare giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento. Io li sento sempre vicini perché un vero tifoso ti fa sempre Palermo. Comunque ci può essere tanta amarezza, però comunque ti fanno sempre, dando una mano sempre per noi. Quindi non penso che ci siano problemi per questo. Ma questo deve essere il mister a decidere se posso giocare con continuità. Quindi sta a lui decidere. Io, come ho detto prima, mi alleno sempre al massimo per metterli in difficoltà. Sì, tra Coronade e Falletti sono molto simili. Ma sono veramente contento per tutti i ragazzi che sono arrivati. Perché prima di essere grandi atleti sono veramente grandi persone. Come Salvi, come Mazzotta, come Puskas, Falletti, Brignoli. Tutti quelli che sono arrivati comunque ci danno una mano. Anche a livello di personalità perché sono persone veramente con tanta personalità. Noi comunque siamo il Palermo e comunque dobbiamo andare in campo sempre per vincere. Quello è sicuro. Noi comunque stiamo bene, non avvertiamo dei problemi. Come ho detto, dobbiamo andare sempre in campo per vincere. Quella è l'unica cosa che conta per arrivare a quell'obiettivo che abbiamo noi.